Quali sono le cause di infezione da gomma? Esistono numerose cause di infezione gengivale. Le cure dentistiche inadeguate sono di gran lunga le più comuni. Altre cause includono traumi della bocca, uso del tabacco, fluttuazioni ormonali, alcuni farmaci, genetiche e alcune malattie. Le bocche della gente sono piene di batteri sotto forma di placca, un film adesivo invisibile che si verifica naturalmente su denti e gengive. Quando la placca non viene regolarmente rimossa con spazzolature e filo interdentale, i batteri possono irritare e danneggiare le gengive. Lasciato indisturbato, la placca si trasformerà in tartaro, un duro accumulo di denti che richiede una procedura dentale da rimuovere. Il tartaro attacca i tessuti molli della bocca, causando gengiviti o la più grave malattia parodontale. Un'infezione che progredisce così lontano potrebbe distruggere l'osso di supporto che tiene i denti nelle gengive. Il trauma alla bocca può essere causato da una procedura dentale, spazzolatura brusca o prelievo forzato dei denti. Questo trauma può portare a infiammazioni gengivali o infezioni. Inoltre, una cavità dentale che non viene trattata per troppo tempo può causare uno sviluppo di un'emulsione gengivale molto dolorosa chiamata ascesso. Il fumo è un'altra causa significativa di infezione delle gengive e lo sviluppo di malattie gengivali. L'uso abituale del tabacco provoca perdite ossea, riduce i livelli di saliva, impedisce il flusso di sangue e danneggia il sistema immunitario. Inoltre, il calore e il fumo possono irritare il delicato tessuto della bocca. Anche i trattamenti per le infezioni gengivali e le malattie gengivali sono meno efficaci nei consumatori di tabacco. Durante la gravidanza, le donne sono più soggette a infezioni gengivali a causa di fluttuazioni ormonali che causano reazioni alle gengive in modo diverso rispetto ai batteri. Lo stesso effetto è vero per la pubertà e la menopausa. Allo stesso modo, alcuni farmaci, come contraccettivi orali, steroidi, farmaci per la terapia, del cancro, antidepressivi, farmaci per il cuore e farmaci antiepilettici, spesso causano infezioni gengivali perché alterano livelli di ormona naturale. Un sistema immunitario debole causerà spesso un'infezione alle gengive. Questo potrebbe essere causato da una carenza nutrizionale da una dieta povera o da una malattia più grave. Le infezioni gengivali si sviluppano quando il corpo non riesce a combattere efficacemente l'infezione. Alcune persone sono semplicemente più inclini di altre a sviluppare infezioni gengivali, anche con un'adeguata cura dentale. C'è una componente genetica delle malattie gengivali. Pertanto, le persone che hanno una storia familiare di infezioni gengivali devono essere particolarmente attenti all'igiene orale di routine e ai viaggi regolari dal dentista. I sintomi delle infezioni gengivali includono gonfiore delle gengive e sanguinamento, gengive rosse, alitosi, dolore, pustra ai denti e nelle gengive e cambiamenti nei denti, inclusi i denti sciolti. Il trattamento dipende dalla gravità dell'infezione. I rimedi casalinghi potrebbero essere sufficienti per le irritazioni alle gengive, ma le infezioni gengivali richiedono un viaggio dal dentista. I trattamenti per le infezioni gengivali potrebbero comportare la pulizia, gli antibiotici, le procedure dentistiche come la riduzione della tasca o la rigenerazione delle gengive o, nei casi più gravi, la chirurgia. È importante per uno visitare il dentista subito se si sospetta un'infezione alle gengive. I passaggi preventivi come il filo interdentale e la spazzolatura regolari e le frequenti pulizie professionali sono molto efficaci nella lotta contro le malattie gengivali.